ciao a tutti come state allora oggi abbiamo la nuova collezione di la fan professionelle guardate che impacchettamento super carino che hanno fatto io non ho la mini media di come sia quindi la vedrò per la prima volta insieme a voi non ho non so neanche che cos'altro ci possa essere dentro il pacco al di là della collezione quindi andiamo subito a fare l'unboxing primissima cosa che vedo è l'olietto per cuticole in omaggio perché tutti gli anni per la festa della donna la fama regala un olietto per le cuticole quindi per gli ordini effettuati nel periodo della festa della donna comunque vi scrivo meglio qui tutto quanto ed è un olietto alla ciliegia io adoro fragole e ciliegia e anche lampone comunque fragole e ciliegia sono i miei due preferiti in assoluto quindi apprezzatissimo questo grazie mille e poi dandana wow vabbè già adoro si chiama floral si chiama floral cocktail oggi la mia lingua si intreccia ed è ovviamente la collezione primavera 2022 bellissima adoro anche la grafica che hanno scelto questi sono tutti i colori con i rispettivi nomi che troviamo in questa collezione e da qui vediamo subito che ci sono quindi due colori diciamo glitterati si non sono metallizzati glitter ma wow belli proprio glitterati con le pagliuzze grosse fantastico questo piacerà tantissimo e invece gli altri quattro sono colori normali diciamo senza glitter e senza nulla questo lì per lì sembrava rosso e forse anche dalla telecamera sembra un rosso in realtà è proprio un fucsia quasi fluo è un colore veramente bello che non ho assolutamente nella mia collezione e che fra tutti è quello che proprio mi ispira di più questi due di questi due mi piacciono da impazzire poi abbiamo un azzurro con il suo glitter il rosa con il suo glitter abbinato e poi abbiamo questo verde lo definiscono verde limpido con fresche note di lime sì quindi direi che è un verde lime un po più un po più verde che non giallo diciamo e questo loro lo definiscono un rosso agrumato fantastico questo questo aggettivo rosso agrumato adoro fantastico ok cominciamo subito con l'h296 un bel azzurro in realtà forse sembra più azzurro nel video ma no è un colore un po diverso nella realtà più a più un che di verde visto nella realtà rispetto non il colore che cattura la telecamera molto bello adesso lo andiamo subito a stendere si stende una meraviglia come tutti i colori la fame ma ormai che ve lo dico a fare ormai lo sapete che li adoro h 297 che quindi è questo azzurro glitterato vabbè spaziale spaziale ma che ripeto non è poi un glitter sono più delle pagliuzzine argentate io non non so come descriverli questi questi genere di smalti sembrano più che abbiano all'interno dei flakes questo ha decisamente bisogno di due passate per renderlo più coprente però può essere in una sola passata magari applicato sopra all'azzurrino di prima quindi all'h296 e fare un nuovo colore tra virgolette un h 296 2.0 h 298 che quindi è questo verde lime vediamo un po questo questo è bellissimo questi colori allora o li si amano o li si odiano però sono bellissimi c'era un colore simile qualche collezione fa forse la collezione primavera dell'anno scorso c'era un altro verde lime che era pazzesco anche quello e comunque coprenza strepitosa h 299 che questo mi sa che è il mio preferito di tutta la collezione quindi vediamo questo in teoria come stesura e coprenza dovrebbe essere simile a quello azzurro vediamo un po' sì h 300 invece questo rosino vediamo un po' uh bello acceso eh bello è un po' più scuro da come lo vedete qui in videocamera vediamo se abbassando la luminosità ecco sì così è più un colore veritiero h 301 e questo sono curiosissima di vederlo no vabbè questo lo adoro questo lo adoro tantissimo questo è un colore veramente unico non so come descrivervelo sono una via di mezzo veramente tra un rosso e un fucsia strepitoso questo ragazzi dovete averlo assolutamente rieccomi allora ho fatto anche la seconda passata del colore e guardate qui che belle range super primaverile ve li faccio vedere un po' meglio così sulla base nera e tolgo un po' di luce per farvi vedere meglio proprio il colore e torno a ripetervi ancora una volta che questo in assoluto è il mio preferito l'h 301 questo assolutamente dovete averlo e come sempre le collezioni di la fam sono acquistabili in blocco quindi nel kit che vi arriva ovviamente con la scatolina che è bellissima da tenere esposta oppure potete acquistarli separatamente ovviamente acquistandoli nel kit avete un pochino di sconto quindi c'è sempre un po' di risparmio nell'acquistare la collezione completa ovviamente tutti i link ve li lascio nell'info box per qualunque altra cosa trovate tutto scritto lì fatemi sapere nei commenti quale di questo colore vi è piaciuto di più e quale nail art vi ispirano vi mando un bacio e vi aspetto ai prossimi video ciao ciao ciao